La festa della Catanzaro, la marcia trionfale dei calabresi promossi in Beacon, 5 turni di anticipo, stadio Ceravolo, sold out, 15.000 spettatori, grandissimo entusiasmo dopo la buonissima prova con la Tourist in Pescara, vuole dare continuità soprattutto per blindare il terzo posto. L'ex Vivarini conferma per dieci undicesimi la squadra scesa in capo alla Rechi di Salerno nel match con la Gelbison, solo cambio Curcio al posto di Biasci per contro Zeman da fiducia in totale, formazione schierata nella sfida con la Tourist, ci sono anche i tifosi del Pescara circa 250 alla prima grande occasione della partita. Sunas, Perra, Jebello, occhi negli occhi, faccia a faccia con Pizzari, incredibile, l'errore del classe 92 capo cannoniere del girone C, qui Merola lo spunto è libero, Colai lo ignora, l'attaccante ex Foggia, poi la girata di Raffià, la grande parata di Fulignati che viene aiutato dal palo. Dunque, primo legno della partita colpito dal Pescara, la girata di Raffià, ancora tra i migliori, se non il migliore del Pescara, malgrado il Ramadan, potremmo dire così. Inquadrato Zeman, una partita vincente, qui la costruzione è al basso, sbaglia secondo me Fulignati che mette in difficoltà il suo compagno di squadra Ghion, subito l'aggressione di Raffià che ruba palla, il gol di Lescano. Al minuto 21, nel corso del primo tempo, il rigore in movimento, non può sbagliare Lescano, guardate qui la costruzione dal basso famigerata, c'è l'intervento di Raffià, si lamentano i giocatori del Catazzano e poi il gol di Lescano. Pescara, tredicesimo sigilo in questa stagione, Pescara in vantaggio al ventunesimo minuto, esultano i 250 supporters di Fede Biancazzurra, qui sbaglia Aloy che aveva preso il posto di Palmiero dopo tre minuti, sei infortunato Palmiero, problema all'adduttore. Il colpo di testa di Iembello, qui sfortunato, il 9 del Catazzaro, traversa clamorosa su assist di Van de Putte che aveva soffiato il pallone, ripetiamo a Aloy. Poi, vediamo ancora il Pescara con Merola, sulla sua ala, il suo servizio, il suo suggerimento verticale per Raffià che prova la conclusione, fa buona guardia all'altezza del primo palo. Il portiere Fulignati, il pareggio della squadra di casa con Curcio, 1-1, il quinto gol in questa stagione, l'errore di Craia in fase di disimpegno. Poi c'è l'assist di Iembello per Alessio Curcio, 33 anni, compiuti lo scorso 12 marzo, negli ultimi due campionati a Foggia con Zeman, l'anno scorso con Zeman a Foggia 15 gol, nelle ultime due stagioni sempre nel Foggia, 29 reti, questo è il quinto centro in campionato, è stato preferito a Biasci, l'ottimo assist di Iembello per Curcio. Sono lamentati per una presunta posizione offside, ma probabilmente Curcio era tenuto in gioco da Milani, comunque questione di centimetri. Poi il Pescara in vantaggio nella ripresa perché segue tutta l'azione Milani, è un po' questa la caratteristica del gioco di Zeman perché vanno senza palla. Gli esterni, palla in mezzo, invito in mezzo, c'è la conclusione di Lescano, la palla viene soltanto deviata dal portiere Fulignati che non può nulla. E dunque 2 a 1, ancora a segno Facundo Lescano, classe 96, 14 gol in questo campionato, il record assoluto a livello professionistico. Si era fermato a 12 due anni fa nella San Benedettese, inquadrato Vivarini, Pescara in vantaggio. Ci prova ancora il Catanzaro, annullato il gol a Iembello. Qui qualche dubbio in realtà c'è perché probabilmente la posizione di Iembello su cross di Capitan Martinelli è regolare. Tra l'altro sarebbe stato un grandissimo gol. Palla all'angolino basso, la sedestra di Pizzari, tutto da rifare per l'11 di Vincenzo Vivarini che ha sempre vinto in casa. C'è questo tentativo di testa ancora di Martinelli su una traiettoria, la palla sorvola. Siora, la traversa della porta difesa da Pizzari, ottantottesimo sfortunato. Crescenzi che colpisce il pallone con il braccio staccato dal corpo. C'è il calcio di vigore, molto decisa, molto deciso l'arbitro donna. In questo caso Maria Marotta della sezione di Sapri che indica il dischetto. Guardate, la palla colpisce prima il piede di Crescenzi e poi il braccio staccato dal corpo. Cianci che aveva preso l'apposto di Curcio spiazza Pizzari. Questo è il sesto gol per il classe 96 che ha giocato anche nel Teramo. Una stagione 19-20, soltanto sei mesi, due gol in 14 presenze. 2-2 al novantesimo, peccato perché il Pescara stava pregustando la nona vittoria esterna in questa stagione. Il Catanzaro in casa aveva sempre vinto, mai pareggiato, finisce così 2-2. Siamo al quarto di recupero, oltrepassato da un minuto e finisce qui la partita. 2-2 tra Catanzaro e Pescara, uno spot per lo spettacolo.